Eh sì, perché una motovedetta della Guardia di Finanza ha tratto in salvo 16 migranti su un barchino a un miglio da Lampedusa dove la nave Open Arms è ancorata in attesa che si sciolga il nodo del porto di Atracco. Il premier spagnolo aveva offerto il porto di Algeciras, ma la ONG ha detto no perché è troppo lontano per arrivarci. Infatti potrebbero servire dai 4 ai 7 giorni e la situazione a bordo resta critica. Ieri 4 migranti si sono gettati in acqua, ma per gli oltre 100 passaggeri già da oltre due settimane in mare il futuro è ancora incerto. E allora ne parliamo questa mattina con i nostri ospiti in collegamento da Bruxelles, l'inviata Rai Cecilia Rinaldini. Buongiorno Cecilia. Buongiorno a voi. Giuseppe Lavegni ha inviato a Lampedusa. Giuseppe ti vediamo, buongiorno. Buongiorno. E con l'abbasciatore e consulente dell'ISPI Armando Sanguini. Buongiorno anche a lei. Allora, Giuseppe, partiamo subito da te con gli aggiornamenti. Quindi c'è stato un intervento delle motovedette della Guardia di Finanza? Sì, quello che è successo nella notte, l'abbiamo visto in tutti questi ultimi giorni, sono i cosiddetti sbarchi fantasma. I migranti, gruppi di migranti, poche decine in verità che arrivano su Barchini, vengono poi intercettati dalla Guardia di Finanza oppure dalla Guardia Costiera a soccorsi e portati prima sulla costa, poi naturalmente nel centro di identificazione. Ieri erano 16, adesso si trovano nello spot dell'isola. Ma il diciottesimo giorno in mare della Open Arms comincia come gli ultimi 5, cioè la nave ancorata a mezzo miglio dalla costa. La situazione di stallo. A bordo ci sono adesso 107 migranti, dopo che due giorni fa sono stati portati a terra i minorenni. Adesso non ce ne sono a bordo. Che cosa accadrà nelle prossime ore? Certo, la nave della ONG spagnola deve prendere una decisione. Questo è il giorno della decisione. Dunque, restare qui in attesa di un'autorizzazione che non arriva per entrare nel porto di Lampedusa sarebbe davvero una questione di minuti se arrivasse dalla Prefettura l'ok allo sbarco in quest'isola. Oppure accettare quella che è la proposta del governo spagnolo. Ieri la Spagna ha detto venite qui, vi offriamo un porto sicuro in Andalusia, porto di Alzeziras. La prima risposta è stata no, perché secondo gli attivisti la navigazione in queste condizioni è praticamente impossibile. A bordo oramai ci sono stress e tensioni. Ieri qualcuno, addirittura cinque persone, si sono lanciate in mare e volevano raggiungere la costa di Lampedusa a nuoto, a bracciate, sono stati recuperati perché sono stremati e rischiavano davvero di annegare. Però c'è un'altra notizia che è filtrata da ambienti spagnoli nella tarda serata di ieri. L'offerta di un secondo porto, in questo caso più vicino, il porto di Minorca. E quindi è una proposta che la ONG e il comandante della nave Mark Reig dovranno valutare bene perché se dicesse sì la Guardia Costiera italiana, su disposizione del ministro Toninelli, sarebbe pronta a scortare la nave e i migranti sino a lì. Oggi, in queste ore, dunque, sarà presa questa decisione. Capiremo se continuerà l'attesa davanti al porto di Lampedusa oppure se la nave si sposterà verso la Spagna. Nientanto vi dico che tra circa un paio d'ore i minorenni che sono stati portati a terra nei giorni scorsi, tra cui otto che invece hanno dichiarato ai poliziotti di avere più di 18 anni, lasceranno l'isola su una nave e saranno portati nei centri di accoglienza della Sicilia. Grazie, grazie Giuseppe per tutte le ultime novità. Andiamo a Bruxelles da Cecilia. Allora, in realtà sono sei paesi che hanno dato l'ok per accogliere i migranti. Oltre alla Spagna, il Portogallo, la Romania, Lussemburgo, Francia e Germania. Dunque potrebbe essere, possiamo chiamarlo, un accordo informale, secondo te? Certo, c'è stato un accordo informale tra i governi di questi sei paesi. È stato fatto presente già alcuni giorni fa. Ed è per questo che qui a Bruxelles la Commissione si è detta pronta, lo ha ribadito anche ieri il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos, pronta a coordinare il ricollocamento, la redistribuzione dei migranti in questi paesi. Ieri la Francia ha quantificato quante persone potrebbe accogliere, 40, il Portogallo una decina, la Spagna una quindicina. Insomma, si sta definendo il quadro. Ma è necessario che i migranti sbarchino e che poi si proceda a una formalizzazione ufficiale della richiesta di questo ricollocamento. Ecco, ma quali sono i margini di un accordo per superare le regole di Dublino che penalizzano poi il nostro paese, Cecilia? Questa è la questione centrale che le nuove istituzioni europee si trovano a dover affrontare. Lo sappiamo bene, le regole di Dublino impongono che il primo paese europeo in cui approdino i migranti deve essere quello che si fa carico della vagliare la richiesta di asilo e quindi se per caso una persona è stata registrata in Italia ma poi dopo va in un altro paese europeo per chiedere asilo lì invece le regole impongono che sia il primo paese d'approdo ad ospitarlo. Questo è un problema grosso per i tre paesi soprattutto ai confini esterni dell'Unione Europea, in particolar modo Spagna, Italia e Grecia che si trovano a dover sopportare tutto il carico dell'accoglienza dei migranti e quindi si sta cercando faticosamente di superare queste regole. Gli Stati non si riescono a mettere d'accordo soprattutto sul ricollocamento obbligatorio, su questa obbligatorietà. Si vedrà nei prossimi mesi come si andrà avanti su questa questione centrale. Grazie Cecilia. Ecco Sanguini, allora riprendiamo proprio da qui una questione centrale diceva la nostra inviata a Bruxelles gli Stati non si riescono a mettere d'accordo secondo lei qual è la soluzione migliore per riformare l'accordo di Dublino? Ovviamente l'Europa ha poteri in campo migratorio ma ci potrebbe essere una decisione all'unanimità secondo lei? Ma guardi il problema dei poteri dell'Unione Europea è un falso problema perché in realtà l'Unione Europea non ha poteri in campo migratorio può fare esattamente quello che può fare il governo italiano con gli altri paesi membri e quindi io mi chiedo come mai in tutti questi mesi il governo italiano attraverso il ministro Salvini o attraverso altri non si sia dato carico di proporre incontri, riunioni per ottenere una mediazione degna di questo nome. Oggi Bruxelles non è in grado di imporre nessuna regola. Questo è il dato di partenza. Ora che si debba ogni volta fare questo stilicidio che poi riguarda solo le ONG e non i cosiddetti barchini fantasmi questo è difficile capire. Quello che mi sembra oggi abbastanza curioso è che di fronte all'assicurazione o alla promessa di sei paesi di ospitare questi migranti non li si faccia neanche sbarcare. Questo francamente non credo che sia una, come posso dire, una prassi che ci faccia molto onore. La Spagna, ricordiamolo... C'è una soluzione che viene proposta, scusi? C'è una soluzione, sì, che viene proposta che è quella di un forte piano di... No, l'unica soluzione che... No, no, dica. Di un forte piano, non ho capito. No, di un forte piano di aiuti in Africa. No, voglio dire, oggi... In Africa. Sì, però dobbiamo parlare. Uno del momento attuale. Uno di medio termine e uno di medio lungo termine. Se noi pensiamo di risolvere il problema di oggi dando più aiuti all'Africa è un falso storico. Perché se noi investissimo non i pochi miliardi di adesso ma 50-60 miliardi all'anno per l'Africa ecco, forse fra qualche anno potremmo ottenere questo risultato. Quindi io credo che il problema adesso sia di urgenza di trovare una soluzione di mediazione fra i governi e allora forse il governo italiano dovrebbe essere il primo a riunire gli altri paesi. Grazie, grazie, grazie. Non sta avvenendo. Grazie a Armando Sanguigni, grazie a Cecilia Rinaldini e a Giuseppe Lavenia che continua a monitorare lo rivediamo che continua a monitorare la situazione.